Non capisco i ragazzi che trattano male le proprie mamme Avevo quest'amico che rispondeva sempre male alla propria madre E infatti io ci litigavo sempre Perché come puoi trattare male la persona che ti ha dato la vita La persona che darebbe di tutto per te Addirittura quando la mamma lo chiamava al telefono Lui esclamava frasi del tipo Oddio che palle questa Che palle Se ricevi ancora le chiamate da tua mamma Sei la persona più fortunata al mondo Perché c'è chi questa fortuna non c'era più E quindi ringrazia che tua madre ti chiama E ringrazia che tua madre si preoccupa E ringrazia che tua madre ti rompe le palle E' proprio vera la frase che dice Chi ha il pane non ha i denti